Continuano a staccarsi calcinacci dai piloni di uno dei viadotti della Fondo Valle Trinio. Continua il disagio degli abitanti del territorio che da mesi inascoltati segnalano la criticità. Una situazione potenzialmente molto pericolosa poiché quelle pietre, precipitando da notevole altezza, si trasformano in una sorta di proiettili che potrebbero colpire auto e soprattutto occupanti delle stesse che transitano al di sotto. Una problematica questa che si inserisce nella più ampia questione relativa allo stato fatiscente della rete stradale che a Bagnoli del Trinio ha portato alla creazione di un comitato spontaneo. Tra le iniziative di protesta, quella più eclatante risale allo scorso maggio, allorquando la discesa in strada dei manifestanti finì sotto i riflettori della trasmissione a Gorà, in diretta su Re3. A distanza di ormai cinque mesi, quelle strade continuano a mettere a dura prova quanti quotidianamente le percorrono. Per loro, oltre ai disagi, il rischio isolamento.